Ciao, bentrovati a tutti, vediamo la situazione su alcuni indici, partiamo dal Nasdaq 100 con Time Frame Delicant delle giapponesi, il Delic serve semplicemente per rimarcare come area 16.650 punti sia stato un doppio massimo importante che ha dato il là alla discesa, poi enfatizzata dalla situazione sui tassi derivanti dalle ultime minute della Fed, è interessante vedere soprattutto il weekly, il weekly mostra come le ultime tre candele formino una evening star, quindi un pattern a stampo ribassista, molto particolare la star che non è una star conformata in maniera perfetta, in maniera ortodossa, ma è altresì comunque una candela quasi doji, quasi una greystone di chiarissimo stampo ribassista e poi appunto la settimana appena terminata, ha dato il là formando il pattern evening star, la candela rossa chiude sotto, ampiamente sotto alla metà della verde e vediamo anche come si sia andati a testare la trendline rialzista, dinamica che al momento tiene, ma è fondamentale appunto vedere se andremo a rompere area 15.560, quindi se dovessimo rompere questo livello con supporto statico di breve coincidente con la trendline supportiva sotto i 15.500 poi potremmo avere una discesa finale a 14.400 punti su questa successiva area supportiva, altrettanto interessante a vedere sostanzialmente l'indice che spesso più di tutti ci interessa e andiamo quindi al MIB, perché? Perché sul time frame daily anche qui vediamo una shooting star, quindi una candela ribassista, una candela che ha testato quest'area di esistenza ai celeberi di ormai 28.000 punti ed è possibile che prima di andarli sostanzialmente a rompere al rialzo potremmo avere sul daily ancora qualche settimana di, qualche diciamo sessione scusate di debolezza, di incertezza perché questa è una candela ribassista potrebbe portare in una fase di trading range il nostro indice, è fondamentale comunque che per decretare ancora intatto il tassista non si vada a rompere quest'area supportiva che è estremamente importante parliamo quindi dei 25.700, 25.800 punti. quindi se scendiamo sul daily proprio vediamo come questo livello sia tutto un livello che più volte il prezzo ha tentato di romper, qui c'è stata una falsa rottura, una sbavatura che è una cosa così sul grafico e poi è stato subito recuperato. Non è detto neanche che ci si arrivi chiaramente, però ora vista la situazione generale anche con gli altri indici è più probabile che si possa vedere ancora una fase di debolezza prima di una eventuale ripartenza e chiudiamo con il DAX e sul DAX andiamo un attimo a pulire il grafico, siamo sul time frame day la situazione è molto molto simile agli altri indici ovvero sia abbiamo avuto questo doppio massimo su massimi storici, area 16.300 punti e poi anche qui apertura in gap per il recupero la chiusura del gap e poi la discesa e anche nel D una discesa non sui minimi ma per ora anche qui vista la resistenza che ha rispinto in maniera a ripite prezzi è più facile assistere ancora a un'eventuale fase di debolezza prima di una ripartenza. Qui abbiamo un supporto che secondo me potrebbe essere molto molto importante in area 15.800 punti quindi su questo livello che era stato supporto, poi resistenza è ancora supporto. Se passiamo sul weekly anche per il DAX abbiamo una candela di stampo di bassista, vedete in questo caso è proprio una doge nel senso non abbiamo per nulla il corpo e anche qui comunque siamo su un doppio massimo come visto e sarà fondamentale comunque mantenere il livello dei 14.900 punti che è un livello supportivo chiave. Sugli indici si può lavorare anche con le opzioni, strumento professionale di trading che consente alcuni vantaggi, primo fra tutti è quello di massimizzare il controllo del rischio. Per questo abbiamo predisposto una giornata affermativa sabato 19 febbraio che sarà a Roma ma può essere eseguita anche in streaming grazie al massimo esperto in Italia, l'ingegner Francesco Tarantino. Per tutte le info potete scrivere all'email che trovate sotto in descrizione della mia mail scattacoltrend.gmail.com. Un saluto a tutti e buon trading